Sicuramente è una soddisfazione bellissima aver vinto quest'ultima partita, era tirata fino alla fine, poi c'era questo freddo che ci ha fatto soffrire, però ce l'abbiamo fatto. Poi la preparazione non è stata lunghissima e quindi il quinto posto siamo più che contente. Sì, c'era una mentalità diversa oggi in campo, eravamo decise fino alla fine di voler vincere e ci abbiamo pure creduto fino alla fine. Ma per alcune di questa squadra è stata la prima esperienza e spero che avendo altre possibilità di preparazione avremo possibilità di fare altri risultati belli. È stata una bella esperienza, come sempre il beach è un'atmosfera bellissima, un ambiente bello, sì, una cosa bella.